Ciao a tutti, come vedete oggi è il compleanno di mio fedello e sono molto felice per lui. Oggi è compiuto a quattro anni. Prima abbiamo mangiato, poi abbiamo mangiato la torta e abbiamo bevuto. E il mio fedello è molto felice che ha fatto il suo compleanno. Lui adora le feste, come per esempio Natale, Pasqua e il giorno del suo compleanno. Like, subscribe e scrivetevi, mandate tutti i video ai vostri amici o compagni che ci guardano e diteli soprattutto di premere il campanello e così avranno più informazioni del nostro video. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. 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 non è così è troppo lato a me buona Buon appetito! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.